...quanto il nostro insegnare calcio, poi alla lunga, fa accettato dei stati così importanti. Sto riportando il regol di Tremercic e altro primato. In un'altra gira, ve lo provo applausi per Antonio Ponte, che ha recursitato la squadra. ...quindi sicuramente un'ottima annata di Ponte, che è stato clamoroso, meritatissimo. Al primo anno, ultimo colpo. E poi non è finito, pure in Coppa d'Inghilterra. Esatto, è finito, perché Ponte è vero. ...pervi, sono centi di uno dei favori di queste stagioni, questi tempi.